L'8 marzo è una giornata importante per tanti aspetti, ma soprattutto perché tutti quanti finalmente prendono coscienza di quali sono le problematiche che affliggono il mondo femminile e veramente sono tante. Questa che diceva lei della presentosa è un'idea che nasce da Teramo ed è un'ottima idea perché è un gioiello simbolo dell'amore dell'uomo verso la donna e quindi vogliamo proprio che questo simbolo diventi un simbolo universale e che combatta la violenza, la violenza contro le donne che sempre di più purtroppo è nelle cronache giornaliere. Quindi questo è un nuovo messaggio che è stato mandato attraverso questa simbologia importante. Come non strumentalizzare questa giornata? Questo è un altro aspetto molto interessante. Questa giornata viene chiamata la festa della donna, ma se in realtà andiamo a vedere perché è stata fissata questa giornata ci troviamo davanti a delle donne che sono state vittime dei loro datori di lavoro perché sono state chiuse in una fabbrica e sono morte bruciate. Quindi la festa è in realtà in un certo senso una forzatura. Si ricorda la donna per le discriminazioni che lei subisce, quindi chiamarla festa forse è un non senso. Io mi sto attivando per proporre che sia un'altra la vera festa della donna perché anche adesso con le nuove normative che prevedono anche maggiore diffusione delle normative che riguarderanno la possibilità per le donne di essere candidate e quindi di riuscire a ricoprire posti istituzionali importanti credo che forse la festa della donna dovrebbe essere quella nella quale la donna nel 1946 ha avuto il diritto di voto e questo forse potrebbe essere un messaggio positivo rispetto a questo che sicuramente raccoglie in sé tantissimi messaggi che non vanno assolutamente cancellati, benissimo anche l'8 marzo, ma vediamo di metterla in positivo.